Conosciamo benissimo il Del Costa D'Amato, che è una squadra che a parte le prime tre partite, poi l'ultima trasferta ha vinto a Martina, quindi è una squadra che come ambizione è quella di cercare di salvarsi. È una squadra con una buona interagliatura, con tre o quattro elementi che io conosco personalmente, ed è fondamentale approcciare bene perché insomma domani cominciano questi scondiretti, e quindi è una squadra che non mi cerca di vincere. Diciamo che alla fine tutti sono disponibili, stiamo cercando di recuperare Ricci al 100%, qualche problemina l'ha avuto Mokul in settimana, però ritengo che dovrebbe anche lui far parte della gara domani. Per il resto diciamo che siamo tutti disponibili, dobbiamo centrinare un attimino un po' tutta la situazione perché è chiaro che tre partite avrò bisogno un po' di tutti quanti, chi partirà dall'inizio, chi mi darà un minutaggio durante anche le altre due partite. Siamo rimasti quelli della settimana scorsa, però ritengo che questa è una domanda che bisogna fare alla società perché io le indicazioni le ho date e vi do sempre la stessa risposta, non possiamo prendere giocatori tanto per prenderli chi verrà e sono giocatori che sicuramente danno una mano, però se devono andare a prendere giocatori che fisicamente non stanno a terra, che non ci possono fare quel salto di qualità, a quel punto andiamo avanti con i nostri calciatori e cercheremo poi nel mercato di dicembre di fare qualcosa. Ma l'uscita di Pinotti, perché abbiamo quattro punte, è un ragazzo che aveva bisogno anche di spazio, di giocare e quindi lui è stato ceduto al paternò per avere questa possibilità di giocare di più.